Buonasera ragazzi, stasera pasta la boscaiola con la salsiccia e con i funghi sistemati, ce l'ho messo anche la mozzarella, mamma mia che fame e che profumo, guardate che bellezza, internazionale, adesso ci mettiamo pure un'andiccia, come come? Una, due, tre, internazionale ragazzi, buona serata a tutti, guaglia a mucca ragazzi, non si può togliere dalla bocca internazionale veramente, buona cena a tutti ragazzi, aspettando il programma, adesso avanti un altro di sera, che stiamo seguendo, come come? Buona cena a tutti voi, guaglia a mucca picciotto, mmm, denn'naz ciao, denn'naz ciao, Grazie a tutti.